ma se ne mando porca puttana fuma l'abbiamo perso troppi uomini non è il momento di parlare di ovuli Andre ci drogheremmo dopo questo affare non funziona che cazzo fai così passami una granata cretino tieni Andre non così testa di cazzo siamo in inferiorità numerica cazzo dobbiamo ritirarci fuma possiamo farcela Andre ma che cazzo siamo i due spero cercate di ammazzarmi uè 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 no uè in generale grazie a Dio I mort eh Andre questo mi arriva da dietro ci mette a urlare ma io che cazzo ne so ok va bene ce la fai a correre eh mi sono cagato addosso Andre non ho munizione dammi un caricatore cazzo e come cazzo si apre aaaah pezzo di merda siamo tantissimi farete meglio da renderti figlio di puttana drogato madonna mia chi vuole grazie 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 grazie